Musica Finisce la scuola e come tutti gli anni mi ritrovo a pensare a cosa fare, a come passare le giornate. La scuola finisce e i compagni di classe li rivedrò solo l'anno prossimo, almeno quasi tutti. Domani quasi quasi vado in piscina. Sì però la piscina è piacevole, ma non mi basta. Mi butto in acqua domani. E poi? Il giorno dopo? Fossimo in un film alzerei gli occhi al cielo e direi Dammi un segno. Che devo fare? Fabbo con gli amici? No, fa troppo caldo per chiudermi dentro. Maledizione. Forse forse un segno dal cielo lo chiedo per davvero. Per fortuna che d'estate c'è la C. Non vedo l'ora che arrivi la C Summer Week. L'anno scorso ho conosciuto Francesco. Non il Papa, non esageriamo. Cavolo che tipo. Non sa mai zitto un attimo. Spara battute a raffida, anche se non tutti fanno ridere. Ma poi nei momenti difficili ti tira fuori quella perla di saggezza che proprio non ti aspetti. Non so come avrei fatto a superare gli esami senza di lui quest'anno. Con certe persone non è importante da quanto tempo ci si conosce. Noti subito che le vostre anime sono sulla stessa frequenza. E pensare che al campo non ci volevo nemmeno andare è stato il mio vice a convincermi. Ora vorrei che durasse un mese intero. Ma non credo che l'equipe diocesana reggerebbe il colpo. Sono vecchi, ma non vogliono ammetterlo. Comunque mi sa proprio che devo chiamare Emanuele Giampiero per iscrivermi al campo di quest'anno. Keep calm e scriviamo sto messaggio.